È di più, molto di più. Anche quando offriamo una semplice coperta, non è mai solo una coperta. Perché in quel gesto c'è la porta di un cuore che si apre, c'è la scelta di un ragazzo, di passare le sue notti in un dormitorio. O quella di una ragazza che laderà le lenzuola di una donna sola, come se fossero quelle di sua madre. E se ognuno degli 8.000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza, allo stesso modo la tua firma per l'otto per miglia alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma, è di più, molto di più.